Per gli italiani si preannuncia un Natale sottotono o meglio all'insegna della preoccupazione, secondo il sondaggio Confesecenti SVG. In aumento a coloro che prevedono un Natale austero dal 14 al 16%, è difficile dal 13 al 21%, cala a chi lo vede come un'occasione di speranza dal 53 al 44%, o si dimezza la percentuale di chi lo immagina gaudente dal 12 al 6%. Di conseguenza sono meno gli italiani che se lo aspettano migliore dal 24 al 21% o uguale dal 57 al 50%, mentre cresce di 10 punti il numero di quelli che temono sia peggiore, dal 19 al 29%. Ma dove andranno le tredicesime impiegate nelle spese natalizie? Ancora una volta a guidare la classifica sono le spese correnti per casa e famiglia, subito dopo ecco la voce risparmio, seguita da quelle non meno impegnative dei conti in sospesa, solo dopo spunta il capitolo regali e quello dei mutui. Meno regali per se stessi ma niente rinunce per i bambini, se un sacrificio si deve fare gli italiani preferiscono riservarlo a se stessi, e il calo è significativo, vale a dire di 8 punti dal 23 al 15%. Anche i parenti e gli amici dovranno accontentarsi, la loro quota scende di poco e si attesta al 21%. Si salvano le risorse destinate ai bambini, che anzi sono in leggero aumento, vacanze per una minoranza ma in aumento, obiettivo riposo, Natale e festa da passare in famiglia. Parola d'ordine, il riposo con netta preferenza per le mete italiane.